Si è svolto lunedì 30 maggio, presso il Salone Valente del Tribunale di Milano, il convegno Rischio amianto, prevenzione del danno e tutela delle vittime, realizzato in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Milano e la Board Network, la rete che riunisce professionisti, giuristi e imprese per parlare di un'emergenza ancora attuale, nonostante la legge 257 del 1992 con cui l'Italia ha messo al bando tutti i prodotti continenti amianto. I dati nazionali purtroppo sono in aumento perché ci sono tutte le esposizioni che si sono verificate in modo intensivo dagli anni 60, anche dopo l'entrata in migore della 257 del 1992 con cui l'amianto è stato posto al bando. In Lombardia i dati relativi ai casi di mesotelioma e di altre malattie asbesto correlate è molto allarmante perché in continuo crescendo. Milano è stata storicamente la locomotiva economica del paese, la industria pesante, le grandi attività produttive si concentravano proprio su Milano e dato l'oggettivo storico rapporto che si è riscontrato tra l'esposizione alle fibre di amianto in contesti lavorativi e l'insorgere di patologie dell'apparato respiratorio, anche di natura neoplastica, ha significato l'affiorare crescente nel tempo, nei mesi, negli anni, di numerosi casi di ex operai che si sono visti poi diagnosticare gravissime patologie al polmone o alla pleura. Quello che mi ha colpito nella discussione di oggi è il fatto che alleggia il dubbio che esistano delle posizioni contrastanti all'interno della comunità scientifica sulla questione del meccanismo d'azione della cancerogenesi dell'amianto. In realtà le conoscenze scientifiche sono, come si dice, pacifiche. Non esiste una discussione di contrasto tra tesi differenti. Oltre che per quanto riguarda direttamente le fasi della lavorazione dell'amianto, dello stoccaggio dell'amianto, dell'estrazione dell'amianto, sulle quali bene o male in 30 anni anche l'industria si è saputa adeguare, tutto quello che probabilmente è rimasto fuori o non sufficientemente dentro, passatemi l'espressione, è quello che riguarda l'inquinamento ambientale, cioè l'amianto e il materiale contenente amianto che troviamo in posti nei quali meno ce lo saremmo o ce lo potremmo aspettare. Scuole, ospedali, tribunali, chiese, palazzi storici soprattutto. Oggi tratterò il tema che riguarda la responsabilità amministrativa degli enti, con un particolare focus sul disastro ambientale che è una nuova fattispecie delittuosa che è stata introdotta nel 2015 proprio per evitare in futuro che quello che è successo per quanto riguarda l'amianto possa ripetersi. A corso del mio intervento cercherò di mettere in luce quelli che sono i profili di responsabilità del datore di lavoro per la mancata osservanza delle norme di sicurezza all'interno del contesto lavorativo ed in particolar modo mi concentrerò su tutte quelle comportamenti che consentono allo stesso di andare esenti da responsabilità e allo stesso tempo di garantire la sicurezza dei lavoratori. Il tema su cui sono stato oggi coinvolto era l'illustrazione appunto di queste agevolazioni probatorie che noi oggi consentiamo ai lavoratori interessati, nel senso che è il datore di lavoro a dover dimostrare, offrendo prova contraria, ad aver adottato misure adeguate per prevenire questo ambiente. Oggi partecipare a iniziative come queste è fondamentale perché sono di carattere informativo e formativo per i professionisti e per la cittadinanza. È un tema che va tenuto vivo attraverso l'attenzione dei professionisti e l'attenzione di chi può dare indicazioni precise su come comportarsi e come affrontare questi problemi. Tra il pubblico c'era anche Roberto Marchitto che insieme a sua madre e suo fratello è stato esposto per anni all'amianto presente nella loro abitazione milanese. La bonifica è avvenuta con noi all'interno dell'appartamento. Ci hanno avvisato semplicemente di dire tirate giù le tapparelle e basta semplicemente tutto qua. La bonifica è stata terminata in malo modo, nascosti letteralmente parti di amianto nel sottotetto, un po' dappertutto. Dopo circa 14 anni mia mamma effettua una visita casuale per un preintervento di una spalla e le trovano comunque liquido nei polmoni. Mesotelioma pleurico, quindi esposizione dell'amianto. Dopo la morte di mia mamma, il comune di Milano, Aler o quant'altro, si sono attivate per fare la bonifica. Anche perché dopo c'è stata una causa penale. Adesso con l'avvocato Ezio Bonani dell'Ona stiamo procedendo alla causa civile. L'Osservatorio Nazionale Amianto è nato per accogliere il grido di dolore delle vittime e poi nel tempo ha gettato un ponte come metafora per combattere contro ogni forma di inquinamento ambientale e di contaminazione degli ambienti di lavoro e quindi di prevenire una serie di malattie, tra cui quelle dell'amianto, che sono le più terribili. Ed è per questo motivo che è importante la prevenzione primaria e quindi la bonifica e la messa in sicurezza dei siti per evitare che ci siano altre esposizioni, altre malattie e altri decessi.